La città metropolitana di Reggio Calabria torna ad essere tra i protagonisti del TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Ogni anno, infatti, l'evento costituisce uno snodo strategico per migliaia di operatori internazionali, figure chiave delle principali aziende del comparto, enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per turismo, tecnologie e soluzioni innovative. Anche in questa edizione, ad accompagnare l'ente nell'importante appuntamento, sono state nuove aziende di settore selezionate attraverso un bando di evidenza pubblica. L'iniziativa presente a Rimini assume un valore fondamentale per continuare a far conoscere le nostre bellezze culturali, paesaggistiche, archeologiche, ricettive ed ennequastronomiche. In questo contesto, nello stand della città metropolitana, abbiamo riscontrato una grande risposta da parte di visitatori che hanno avuto modo di apprezzare l'offerta del territorio regime e la sua intrinseca capacità di riuscire ad assecondare, in ogni sua declinazione, qualsiasi esigenza turistica. L'evento di Rimini, ha proseguito Ranuccio, è dunque un'occasione importante di promozione del territorio e soprattutto un'opportunità unica per i partner, selezionati all'esito di un avviso di evidenza pubblica, che possono far conoscere la loro professionalità ed unicità. Per questo ringrazio la dirigente Giuseppina Attanasio e tutti i funzionari del settore 2 che hanno contribuito all'allestimento tematico del nostro spazio, senza i quali sarebbero state davvero complesse riuscire ad ottenere questi importanti risultati.